Se anche tu stai cercando un setup ideale per fare video e foto in mobilità stando iperleggeri e potendo fare video in 4K, questo video è per te. Pochi giorni fa sono stato a Bologna per il SAI, una fiera di settore per gli edili, e ho raccontato ciò che più mi è piaciuto nel video che trovi qui. Qualcuno mi ha chiesto che equipaggiamento tecnico ho usato e sono contento di rispondere con questo video, perché ho viaggiato molto molto leggero e il risultato è stato, devo dire, molto soddisfacente. Avrei potuto addirittura rinunciare anche ad alcuni elementi che mi sono portato dietro e che non ho usato. Ora ti racconto tutto. Parametri principali di scelta, leggerezza e qualità audio. Questo perché volendo fare video in un ambiente molto molto rumoroso come la fiera, avevo bisogno di una camera con ingresso microfono. Ho scelto la mia fidata Panasonic Lumix G80, su cui ho tenuto montato per tutto il tempo il Rode Video Micro, che è leggero e proprio fantastico. È una qualità audio eccezionale. Peraltro devo dire che la qualità audio nella maggior parte dei casi è indistinguibile da quella del Rode Video Micro. Pesa molto di meno, non ha bisogno di batterie ed è iperleggero. In verità mi sono portato dietro anche un microfono a pulce, il Rode Lavalier, che pensavo di collegare col suo filo direttamente in camera, ma non l'ho mai usato. Avrebbe isolato meglio la mia voce, lasciando più in secondo piano il rumore di fiondo della fiera. Ma il risultato ottenuto col Video Micro mi fa dire che ho fatto bene, a privilegiare l'agilità del microfono a cannone, alla complicazione di un filo sempre attaccato tra me e camera. Quindi devo dire che questo setup l'ho trovato veramente comodo. Parlavo di leggerezza, direi che ho scelto l'ottica perfetta, il Panasonic 12-32-35-56, che equivale a un 24-64. Il peso? 70 grammi. No, non mi sono sbagliato. Pesa veramente 70 grammi ed è piccolissimo, oltre che stabilizzato. Ha anche un bel grandangolo, quindi era l'ideale per riprendermi mentre tenevo la macchina col cavalletto. Qui a Sai ho trovato veramente tante tante novità molto utili, che voglio condividere, perché secondo me potrebbero essere utili anche per te. Soluzioni semplici e problemi complicati. E in tanti casi si vede proprio che l'inventiva italiana ha risolto delle problematiche che ci siamo sempre trovati davanti, ma a cui non abbiamo mai trovato soluzione. Camera, microfono, ottica, batteria, memoria, placca di fissaggio. Ah, la placca di fissaggio. La placca di fissaggio è la mia affidata Arca Suisse della Peak Design, che si fissa qua. Trick. Pesano complessivamente 7 etti. mica male, no? In più mi sono portato una comodissima capture di Peak Design, con cui fissavo la camera allo spallaccio di uno zainetto generico, leggero, come questo, e un cavalletto mafrotto Pixievo, con fissato l'adattatore per le placche Arca Suisse. Il cavalletto mi ha fatto da impugnatura tutto il tempo, perché lo tenevo così, allungavo le gambe, trac, ed ero a posto. Completavano la dotazione due batterie della Lumix, per avere un set totale di tre batterie, ne ho usate due in totale. Per sicurezza mi sono portato anche impugnatura e clamp per il mio Galaxy S9. Per collegare il microfono al telefono avrei usato questo cavetto, che è un adattatore ideale per fare questa roba. Addirittura da una parte si collega il microfono e dall'altra parte la cuffia per monitorare l'audio. Costa pochi euro. Comunque devo dire che questa roba non l'ho mai usata, perché il telefono non l'ho usato. Sono stato sempre fedele alla G80. Quindi scartiamo la roba che non ho usato. Peso totale di quel che usato. La G80 con l'obiettivo, la batteria e la memoria pesa 6 etti. Il microfono 84, la piazza di fissaggio 23. Il cavalletto col suo adatto torino 336 grammi. Le due batterie per la G80 108 grammi. La Capture di Peak Design 74 grammi. Totale finale circa 1,2 kg. Considera però che la Capture, essendo fissata allo zaino, non influisce con la percezione del peso. Stessa roba per le batterie di scorta, vedere la camera che stava nello zaino. Quel che tenevo in mano, camera a cavalletto, con l'obiettivo e microfono, pesava circa un chilo. Poco direi, anche in considerazione della versatilità del sistema e del risultato ottenuto. L'ho tenuto in mano tantissimo e non mi ha dato nessun problema. Sfruttò la casone per una precisazione. Se non avessi dovuto fare video, ma solo foto, mi sarei portato dietro solo la Panasonic Lumix GX800 con due batterie, che è enormemente più leggera. Il limite della GX800 è che non ha l'ingresso microfono e quindi senza usare il VideoMic Pro avrei catturato tantissimo rumore di fondo e il video sarebbe stato molto brutto. Però, se avessi dovuto fare foto, questo non sarebbe stato un problema. La qualità delle foto è quasi indistinguibile tra le due camere. In pratica, con quattro etti, avrei potuto fare foto e qualche videino anche in 4K. Insomma, io devo dire che da Nikonista il sistema micro 4 terzi mi piace un bel po' e penso che dimostri proprio il suo valore intrinseco quando portabilità e leggerezza sono importanti, almeno quanto la qualità delle immagini. Ci si può fare dei giri infiniti senza affaticarsi. Nelle spalle con lo zaino, con zaini pesantissimi, nelle mani quando devi tenere la camera sempre in mano. Spero di essere stato d'aiuto a tanti di voi che amano prendere appunti con la camera durante lunghe visite o lunghi viaggi, ma vogliono stare tanto leggeri. Un'esclusione con ste macchine è veramente un piacere. E potersi portare a casa tante belle immagini con un setup così leggero è per un bel lusso. Le specifiche di tutte le parti dell'equipaggimento le riporto nella descrizione del video. A presto e iscriviti se vuoi vedere i nuovi video che posterò. Ciao ciao!